Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sto prendendo una pausa dallo studio perché sono un po' stressatina e mi stavo facendo una passeggiatina in casa perché ho appena mangiato e sto prendendo la buona abitudine di farmi almeno 10 minuti di passeggiata dopo mangiato perché ragazzi purtroppo tendo a fermarmi in tutti i sensi, a un certo punto è come se si mischiano gli eventi, succede un po' quando sono in un periodo stressante come quello che sto passando in questo periodo che praticamente la mia mente è fissa a fare una cosa e quindi perdo un po' la capacità tra virgolette divento un po' apatica per il resto delle cose quindi tendo un pochino a fare collegamenti che faccio tutto insieme, sto ferma magari sul letto, mangio, bevo, studio, faccio tutto in un punto perdendo di vista l'attività fisica, divento molto ferma fisicamente e questa cosa ovviamente non va bene perché anche a livello mentale vedo che mi crea proprio degli scompensi fortissimi quindi insomma questa è una sana abitudine da fare sempre, non solo quando si sta male dopo almeno dopo mangiato bisogna camminare almeno 5-10 minuti per cambiare anche attività perché non è che possiamo fare tutto in modo consecutivo queste sono un po' le problematiche della mia condizione ma anche della ADHD che tende un po' a fare in modo compulsivo le cose infatti vedete che sto ruttando cioè io ho mangiato 5 minuti fa appena ci mettiamo a camminare già digeriamo mi sono fatta anche un caffè lungo americano quindi bello caldo sta aiutando la digestione e cosa dire volevo fare questo video volevo un po' approfittare mentre cammino e volevo fare questo video parlando di un'osservazione un'osservazione di come sono cambiata nel confronto delle persone negli anni perché io con le persone sono cambiata tantissimo cioè una persona se mi vedesse adesso non mi riconosce sono cambiata tantissimo perché ragazzi perché ho capito ovviamente certe cose molto banalmente provo a spiegarmi un attimino inizialmente parliamo dall'età ovviamente dell'adolescenza non parliamo dell'infanzia perché nell'infanzia insomma sì per carità sarebbe carino anche fare un video sull'infanzia però ragazzi è un po' complicato cioè non è che si può parlare molto voglio dire l'infanzia comunque è caratterizzata da tante cose dagli eventi da come ci hanno cresciuto non penso che sia un video interessante i bambini sono un mondo a parte se mi darete ragione e quindi direi dall'adolescenza fino ad oggi fino ad oggi i miei 39 anni quindi insomma posso dire già qualcosina cioè sono cambiata un botto allora io nella prima adolescenza allora nessuna cosa non sono cambiata non mi è mai piaciuto rapportarmi con persone che non conosco per una questione proprio di fiducia tutte le persone a cui mi sono avvicinata erano persone di cui in qualche modo mi fidavo o comunque mi creavano una sorta di sicurezza o che comunque dopo i miei vari radar da tutte le parti capivo che erano delle brave persone eccetera eccetera e quindi c'era un avvicinamento questo un po' sono cambiata negli anni perché anche se una persona è una brava persona oggi come oggi per carità sono contenta per te ma fondamentalmente non è che me ne freghi tanto cioè per carità a me piacciono le brave persone però che tu sei una brava persona me ne fotte abbastanza sega perché dico così perché probabilmente quando ero adolescente avevo bisogno di avere una persona di riferimento qualcuno su cui appoggiarmi o comunque qualcuno su cui sì sotto un certo aspetto fare affidamento e aspetta un attimo e invece diciamo quindi probabilmente in una cosa sono cambiata quando ero ragazzina avevo bisogno più di sicurezze anche se ero una bambina molto determinata molto anche un po' mi sapevo difendere molto bene diciamo però ero comunque avevo bisogno comunque di essere accompagnata in qualche modo quindi probabilmente facevo una selezione riguardo a questo dettaglio e oggi come ripeto non dico che sono superwoman anche io ho le mie figure d'appoggio ho le mie figure che seguo che ascolto come un po' tutti noi però non mi affianco più a chi mi dà fiducia e sicurezza perché quella cosa di essere un po' diciamo tra virgolette dipendente da una figura massima non ce l'ho più perché meno male direi io perché comunque vuol dire che sarebbe stata un po' una dipendenza affettiva una dipendenza emozionale che ad oggi non c'è quindi era proprio dovuta all'infanzia al fatto che ero una ragazzina poi un altro dettaglio che mi sento di essere cambiata è proprio il rapporto con gli altri cioè io posso dire ad oggi di essere diventata associale completamente associale non associale nel senso oh mamma cos'è sta roba non associale nel senso che non me ne frega se tu stai male cioè io quando guardo un documentario non ho quel tipo di situazione tipo psichiatria depravata cioè io quando guardo un documentario vedo qualcuno che sta male se tocca le corde giuste piango anch'io però posso dire sono diventata associale perché la presenza degli altri mi dà proprio fastidio e questa cosa qua però devo dire c'è sempre stata anche se anche se appunto essendo ragazzina ero molto più vivace e quindi sotto un certo aspetto e quindi sotto un certo aspetto era una cosa che prendevo un po' sul ridere questa cosa qua che mi stavano sempre tutti un po' sul culo anche perché poi tra una cosa e l'altra io comunque ho anche il fiatone ragazzi ho combinato cinque minuti faccio proprio cagare e cioè anche perché dicevo tra una cosa e l'altra comunque io facevo amicizie alla fine perché ero simpatica ero bellina ero simpatica ero veramente carina insomma ero irresistibile poi quando sono cresciuta ho iniziato a tipo a tirar via la maschera e a diventare la stronza che sono che sono sempre stata un po' stronza però essendo che sono cresciuta sapete che quando diventiamo adulti certe caratteristiche diventano un pochino più un pochino più marcate quindi insomma sono diventata completamente sociale un po' per le esperienze che ho fatto perché comunque a me piace stare per i fatti miei mi sono chiusa moltissimo e quindi questo ha fatto sì che anche nei confronti delle persone mi chiudessi sempre di più e aspetta che c'è c'è vicino a me e quindi su questo sono cambiata un'altra cosa su cui sono cambiata tantissimo tantissimo cioè su questo sono proprio diventata l'opposto e questo rimanda sempre a quello che ho detto prima una volta quando ero piccola piccola quando ero una ragazzina se c'era qualcuno che si avvicinava con un certo modo cioè qualcuno che si avvicinava in modo spontaneo senza aver timore di dire quello che pensa sapete quelle situazioni che ti rendi conto che stai avendo a che fare con una persona genuina io mi aprivo mi aprivo completamente era come se mi fidassi in seduta stante perché finalmente avevo a che fare con qualcuno che non aveva paura di me o si sentiva intimorito o era preso male perché ero carina quindi non si voleva avvicinare tutte queste cose che mi facevano moltissimo incazzare a me perché la gente presa male era ciò che di peggio non potevo sopportare quindi quando finalmente vedevo qualcuno che si rapportava in modo normale finalmente potevo vivere una vita normale quindi mi aprivo ero completamente diversa c'è tipo un cambiamento di personalità proprio anche disponibile in modo eccessivo non so cosa dirvi ragazzi secondo me secondo me perché c'era proprio questa sete di vivere delle relazioni sincere tutto qua perché poi appunto succedevano quelle due o tre cose poi la persona comunque di nuovo mi cadeva ed eravamo al punto a capo cioè non è che le relazioni durassero chissà quanto tutto aveva un tempo ben prestabilito e ben chiaro su questo sono cambiata tantissimo come ho detto prima anche se adesso adesso anche se si avvicina una persona che parla in modo spontaneo tutta secondo me e c'entra molto anche l'età cioè nel senso non ho più l'età che sono una ragazzina che sto a guardare ste cose qua sapete che quando si diventa adulti comunque cioè non c'è più voglia di perdere tempo con ste cose no quindi adesso sinceramente che qualcuno si avvicini con dei fare con del fare spontaneo anche qua me ne fotte abbastanza sega perché io cosa me ne faccio di sta roba cioè e qua qua niente ragazzi perché su questo punto probabilmente ho acquisito più sicurezza in me stessa quindi siamo sempre lì probabilmente da ragazzina avevo bisogno di un quel supporto in più e mi attaccavo a queste cose qua e adesso sinceramente invece che tu fai il simpatico me ne fotte sega abbastanza cioè perché nasca un rapporto adesso deve essere proprio una cosa molto più profonda molto più però questa è una cosa anche abbastanza normale perché è una cosa che succede un po' a tutti molto più profonda molto più reale tangibile quindi non è che mi bastano quelle due o tre cose che dici voglio dire quindi anche su questo sono cambiata molto basta ragazzi non ho più niente da dirvi sono abbastanza in paranoia perché è un periodo che sto studiando tantissimo allora un'altra cosa che ho sono cambiata tantissimo è anche questa e anche qua però fa capire che sono maturata e che ho capito come funzionano le cose praticamente quando ero ragazzina succedeva sempre questa cosa quando mi relazionavo con qualcuno e nasceva un rapporto praticamente mi aspettavo poi da quella persona che facesse che conoscesse delle cose che non erano neanche di sua competenza cioè mi aspettavo che quella persona mi aiutasse a fare tutto a un certo punto quindi avevo delle richieste assurde invece crescendo ho capito che se ti serve fare se ti serve stampare i fogli devi andare in edicola che ne so se ti serve comprare un cellulare e chiedere una caratteristica sul cellulare devi andare in un negozio di elettronica quindi ora ovviamente grazie a Dio ho capito che ogni persona ha una sua funzione e può aiutarci in base alla sua funzione ristretta quindi io magari mi faccio aiutare da molte persone di campi diversi però una volta che è terminato il loro compito fondamentalmente li mando a fanculo cioè non è che continuo il rapporto quindi utilizzo proprio le persone per il loro scopo proprio come se fossero delle macchine e qua ritorno al punto di prima di essere diventata un po' asociale perché quando ho capito anche questo dettaglio io ho avuto meno interesse a interagire con le persone e costruire dei rapporti anche qua perché probabilmente lo facevo per un secondo fine per essere aiutata per essere guidata sotto un certo aspetto però intanto poi ti trovavi la zavorra ti trovavi la zavorra attaccata al culo perché gli dovevi chiedere magari una cosa e poi praticamente oramai ci avevi instaurato una relazione e quindi poi dovevi cercare in qualche modo di smenarti questo rapporto in qualche modo invece quando ho capito che le persone non possono risolvere tutti i tuoi problemi come per magia le persone sono diventate meno affascinanti e meno interessanti e ho iniziato ad utilizzarle per quello che sono sì lo so sto dicendo delle cose molto brutte molto da stronza però lo scopo di questo canale è dire quello che penso e nei modi in cui li penso ora vado e saluto tutti bye bye